ciao e benvenuti su click shop in questo video scoprirai un modo simpatico di trasformare la tua tastiera del pc in un fantastico pianoforte viturale non dimenticare di mettere mi piace al video e di iscriverti al nostro canale in modo da non perdere mai un nuovo video buona visione di iscriverti al nostro canale Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.